Gentili telespettatori, buona giornata. Boomerang degli Yes Men e la Schlein che vuole uscire, ritirare chiunque dalla Rai, i consiglieri in commissione di vigilanza. Allora, Boomerang degli Yes Men. Che cosa è successo in Rai? Questa è la mia lettura, poi ognuno avrà la sua. La Meloni non ha censurato Scurati, non è che la Meloni ha detto sì, come? Cos'è che vuole dire su di me? No, 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 cancellate. La Meloni non ha censurato Scurati, la Meloni non sapeva niente di questo. Un presidente del Consiglio non è che si può occupare di quello che va a dire uno scrittore per un minuto nel programma dell'abortone, che poi non si capisce l'abortone come faccia ad avere un programma in qualunque televisione, insomma. Io sentirla parlare, sentirla ragionare, mi sono chiesto ma da dove viene questo abortone? Avrà tutta la sua carriera, però... Che l'abortone conduca un programma brava, non lo so, io non la reputo adatta per avere un programma in televisione. Mio' opinione personale, eh? Mio' opinione personale. Però, a parte l'abortone che mi... bah... Comunque, non è stata la Meloni a censurare. Sono stati i famosi Yes Men. Chi sono gli Yes Men? Allora, questa è tutta una mia teoria, eh? Non sto accusando nessuna persona in specifico, come scrivono nei film, ogni riferimento è puramente casuale. È una mia idea. Tu arrivi al governo, la legge dice che puoi mettere le tue persone in Rai, metti le tue persone in Rai, e le tue persone in Rai hanno il compito, chiaramente, di portare in Rai il verbo, di portare in Rai il nuovo corso. Capite, no? Il nuovo corso. Un Rai di centro-destra, come dice la legge italiana, fatta dal PD nel 2015 con Renzi. E allora tu metti nei ruoli chiave gli Yes Men. Chi sono gli Yes Men? Gli Yes Men sono quelli che girano intorno ai capi. Quelli che girano intorno e ti dicono come sei bello, come sei intelligente, come sei bravo, sei fantastico, fantastica, quello che dici è incredibile, lei è la raffigurazione plastica del buon governo, lei è il massimo dei massimi. Gli Yes Men sono quelli che girano intorno ai capi perché sanno che se quel capo un giorno diventa il capo dei capi, parliamo di governo, mi arriva un bel posto di lavoro. Quindi lo Yes Men è quella persona che lavora adulando il capo sperando che in un futuro possa avere qualche qualche vantaggio. Così la Meloni va al governo e tanti Yes Men lo Yes Men è quello che ti dice stai facendo grandissime cose, mamma mia che cavolata che sta facendo, stai facendo grandi cose, mamma mia. Cioè è quello che ipocritamente ti dice che sei perfetto. e poi gli Yes Men hanno i posti di lavoro. A questo punto cos'è successo in Rai? Ci sono i volenterosi Yes Men, cioè quelli che prendono l'iniziativa per difendere il capo. Come dire, questo vuole fare un pistolotto contro la Meloni fascista, che cosa? Cancellare, via! La Meloni non sapeva niente ma c'erano questi volenterosi Yes Men che per farsi vedere dal capo che loro il verbo è questo, Maron, questo qua mi aggredisce il capo dei capi. Eh no, eh! No, no! Via! Lui non lo fa. Se proprio lo vuole fare, gratis. Non sappiamo neanche se è vero. Quindi il problema sono i volenterosi Yes Men che per farsi vedere da chi è oggi ai vertici della politica prendono delle iniziative e fanno un danno. Qual è il danno? Il danno è che se questo Scurati fosse andato in televisione dall'abortone, se non sbaglio questo abortone qua, a fare il suo pistolotto di un minuto la Meloni è neofascista, eh, non rinnega, non l'ha mai detto, l'indomani qualche giornale di centrodestra avrebbe detto ecco il, ecco il, come possiamo dirlo, ecco il rancoroso di sinistra che va dall'abortone ad attaccare la Meloni ne avrebbero parlato due giornali di centrodestra finito lì. Invece questi Yes Men che hanno cancellato questo discorso e poi inventandosi la cosa della parte economica che ovviamente è una balla, inventandosi sta roba qua, cos'è successo? Che tutti i programmi di sinistra si sono messi a leggere sta roba qua. Ah, censurato, bene, allora ve la leggo io, l'hanno fatto sulla sette, il programma di Gramellini, lo ha fatto la stessa Bortone che si è messa lì diceva vabbè ve lo leggo io a gratis e poi lo farà Floris questo martedì, lo farà a Piazza Pulita Formigli giovedì, ecco, e così gli zelanti, gli yes men che volevano farsi vedere dal capo come dei difensori del verbo hanno fatto un danno notevole alla stessa Meloni perché anche la Meloni adesso l'ha pubblicato sui profili quindi sto minuto di offese verso il governo c'è dappertutto avete capito che l'impatto mediatico del boomerang è stato mille volte superiore a che non avessero detto nulla ecco poi la Schlein dice beh adesso basta dal PD dicono la RAI non è tua datti una regolata Carlo Calenda poi dice proprio questo la RAI non è tua datti una regolata Maria Elena Boschi dice far tacere uno scrittore perché dice cose sgradite al governo è semplicemente inaccettabile e poi da più Europa l'azienda è sempre più pegata a interessi di parte Landini dice oscuramento di scurati ha fatto anche la battuta Saviano è censura cosa vi aspettavate ancora lavorate o andate ospiti in RAI e poi ovviamente il punto è che il punto è questo la Schlein dice adesso voglio ritirare vogliamo ritirare tutti i consiglieri RAI quelli in vigilanza RAI perché ormai la RAI è posseduta o riposseduta è posseduta da queste da queste forze maligne oscure come quelle di Harry Potter e di senatori e quindi lasciamo la RAI ormai alla deriva quindi fanno quelle robe tipo la Ventino lasciamo tutti la RAI andiamo via lasciamola al suo destino dittatoriale ecco per dirvi che gli yes men i volenterosi del verbo hanno provocato a Meloni un danno un danno più grande se questo Scurati avesse fatto il suo pistolotto non sarebbe interessato a nessuno invece ne è venuto fuori un caso nazionale e questo Scurati ha avuto tantissima pubblicità da che non lo conosceva quasi nessuno da che lo conoscono quasi tutti avete capito come funziona? bravi yes men siete proprio furbi geni della lampada ma che corso avete fatto? corso di genialità? yes men arrivederci a tutti e grazie